Bella raga, buonasera, commentiamo questa partita Cagliari-Juventus, poi domani faremo sommariamente tutta la Serie A con i top flop e i voti di Cagliari-Juventus. Questo tutto domani. Una partita dove la Juventus comunque ha giocato bene, anche se dopo il gol negli ultimi quarto d'ora, venti minuti, ha sofferto un po' il ritorno del Cagliari, un Cagliari molto messo bene in campo da Diego Lopez, una Juventus che ha preso il palo all'ottavo con Dybala su punizione, Dybala poi si è fatto male e credo si prevede un mesetto di stop, qualcosa pure in più, per fortuna ci sono questi 15 giorni adesso di pausa e speriamo che non sia nulla di grave per Paolo. Traversa con un gran tiro, palo interno con un gran tiro di Bernardeschi, traversa di Dybala e il Cagliari poi nel finale ha avuto due occasioni, due parate strepitose su Pavoletta e Farias di Wojciech e Szczesny, che a pronunciarlo è bello scriverlo, è micidiale. Comunque sommariamente ai punti la Juventus ha meritato, molte occasioni sprecate con Pjanic, molti contropiedi, scialbi sprecati, Douglas Costa il tiro di poco fuori e dunque poi ha trovato il gol con Bernardeschi e io vorrei analizzare un attimo la partita, vorrei essere onesto, per quanto si può essere onesti, il rigore per il Cagliari ci stava, quello è calcio di rigore tutta la vita, molti dicono la Juventus, la Juventus, ma ragazzi è l'arbitro che decide, bisogna sempre accettare. Abbiamo accettato i rigori contro a Genova, fallo su Galabinov, Galabinov in fuorigioco iniziale, calcio di rigore, muti, ha fatto gol leggero del 2-0, episodio con la Roma, Allison su Higuain lo travolge, Abilon del rigore, neanche col VAR, noi muti, l'episodio con l'Atalanta, subito dopo il rigore sbagliato da Dybala, c'era un'altra su Higuain, muti, vittorio e terzo gol, era ad annullare, ma sei andato indietro due minuti a vedere il fallo iniziale. Quindi ragazzi, è una ruota che gira, la settimana scorsa ci sono stati degli episodi su Crotone-Napoli, fallo di Mertens, il fallo subito da colpa lì, non si è creato nessun scandalo, o almeno ho visto su Facebook roba varia, non ho visto sinceramente soprattutto tifosi che non sono né del Cagliari, non sono del Cagliari e non erano del Crotone, tanto scandalo. E sbagliato a vedere l'arbitro, erano due rigori che ci stavano, non ci stava, questo ci stava e non gliel'ha dato. E ragazzi, non è che ogni volta che succede a favore della Juve, è sempre la Juve, quando succede contro, vabbè, può capitare. Oppure succede alle altre squadre, può capitare. Torino-Lazio, nessuno ha detto nulla, nessuno scandalo. Se a posto di Torino ci stava la Juventus, camminato falsato, si andava ai tribunali, si andava al Parlamento e così pare. Io direi che se l'italiano medio si incazzasse per gli aumenti che ci sono in continuazione nella politica, come gas, luce, acqua, addirittura adesso anche le buste della frutta, vabbè, quelle sono incazzate perché un centesimo non costa nulla, e si incazzasse per quello, invece per il calcio, secondo me saremmo un popolo... saremmo molto meglio in Italia, secondo me. Per quanto riguarda i gol della Juve, è regolare perché il Benatia ha commesso il fallo su Pavoletti, però l'arbitro ha dato il vantaggio, il Cagliari ha continuato a giocare prima con Varella e poi con Farias, Farias ha perso il pallone, la Juventus è ripartita, in contropiede ha segnato. Quello è un fallo dove l'arbitro ha dato il vantaggio, dunque l'arbitro ha visto che il fallo c'era, vantaggio, il Cagliari era in possesso palla, ha perso il pallone il Cagliari, non è che poi si può ritornare a dire no, dopo due minuti il vantaggio non c'è più, perché una volta hai dato il vantaggio, vantaggio, poi se quello perde il pallone, è su cavoli sui ragazzi. E vorrei sapere delle impressioni sulle vostre partite, sulla vostra, sulla partita, e io vi aspetto domani, molto probabilmente domani, dopo domani, domani sarò in viaggio, dunque già vi anticipo, sarò in viaggio per Milano, e dunque vi aspetto domani sera, cercherò di fare il video, al massimo domani e dopo domani mattina, e vediamo il top flop della ventesima giornata, e i voti di Cagliari-Juventus. Io già vi posso anticipare il voto all'arbitro, per me un 5, per Calvarese non ha una buona direzione di gara, ma anche da ambo le parti, con alcuni gialli non dati, alcuni falli non dati da una parte o dall'altra, dunque un Calvarese forse che non era in giornata di grazia, può capitare, comunque un'arbitro di Serie A, e può capitare che non sei in giornata di grazia. Per il momento ragazzi è tutto, io vi auguro una buona notte, e un bacione, e sempre fino alla fine, anche col VAR. Ciao a io!